Cuffiette! Le mie cuffie principali sono queste e sono quelle che mi porto in giro costantemente, sono della JBL, magari se volete a breve metterò su una recensione, le uso da più di un mese ormai e sono veramente soddisfatto di come lavorano, di come si sente, perché la cosa principale è non ci ascolto la musica io con le cuffiette, ma faccio le telefonate e le uso per avere le mani libere. Queste sono molto comode perché sono da collo, quindi non me le perdo per strada, le tengo sempre attaccate al collo e sono magnetiche, ma mi hanno inviato anche queste, quindi la recensione oggi si dedica a queste Arbilly qui. Sono in stile AirPod e si collegano velocissimamente con il cellulare e sono fatti in questa maniera qua. Per aprire la scatola basta ruotare la nostra confezione, confezione che si ricarica tramite micro USB, con qualsiasi micro USB. si sente molto bene con queste cuffie, devo ammettere che anche chi mi chiama, chi mi sente dall'altra parte, rimane sempre molto soddisfatto di queste cuffie. Appena si apre la custodia si collegano anche al bluetooth del telefono, immediata come cosa, veramente veloce. Guardate, adesso chiudo e vi faccio vedere il bluetooth che è spento. Vado ad aprire la custodia e si sono già connesse, avete visto. Quindi lavora molto bene, io non sono abituato minimamente ad utilizzare questo tipo di cuffie perché appunto uso quelle a collo. Però in casa devo ammettere che sono molto comode perché sono appoggiate qua e quando mi servono non faccio altro che prenderle, inserirle all'interno dell'orecchio e sono molto molto comode. Il difetto principale di queste cuffie, ed è una cosa che odio tantissimo, è il fatto che siano touch qui. Quindi appena io spioro questa parte della cuffia qui, loro fanno qualcosa. O rispondono al telefono o mettono giù la chiamata. La maggior parte delle volte il problema principale è che vanno a mettere giù la chiamata. Tramite un doppio tap si possono anche schippare le canzoni, andare avanti, andare indietro. Con quattro tap si richiama l'assistente vocale, quindi sono fatte molto bene. Ma appena le si prende in mano per metterle a posto, cade la linea. Belle, 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 ma cade costantemente la linea. Facciamo un test di telefonata. Quindi vado a recuperare. Una telecamera da portarmi in giro per continuare a telefonare. Ok, con la mia Osmo Action e chiamiamo Katia. Suona il telefono, rispondiamo e iniziamo a registrare la telefonata. Quindi mi sposto e facciamo questa telefonata. Metto il telefono in tasca e iniziamo a sentire come la telefonata si sente all'interno delle cuffie. Io adesso sto parlando. Il telefono di Katia è di là che sta registrando. Sono in questo ambiente qui. Quindi sono dentro casa, nelle varie stanze dell'appartamento, della casa. E continuo a parlare per sentire come si sente. Adesso mi sposto fuori all'aperto. E vediamo se riesco a beccare magari qualche rumore che possa essere fastidioso. Ad esempio, passeggio e mi sposto sull'erba. Mi avvicino a un albero. Questo è il rumore di un albero. Ci vorrebbero dei rumori un po' più forti. Però intanto continuo a passeggiare. Ecco, mi avvicino a Katia che sta tagliando della legna. Però in realtà sta solo facendo dei rumori con questa simpatica freccia. e vediamo come si sente anche con un attrezzo del genere a fianco. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova. Come si sente la pavese. Mi sposto prima che mi tagli. Che mi tagli. Aiuto! Questo è il test delle nostre cuffie. Ecco, adesso mentre mi sto allontanando sentite anche in distanza con il rumore del genere di sottofondo. Adesso sto zitto. A voi il parere della funzionalità di queste cuffie. A me piace molto il fatto che le posso utilizzare in completa libertà e quando non ne ho più bisogno le tolgo e le posso mettere via. Come vestibilità ho un po' di dubbi. Ho provato più gommini. Quindi, all'interno della scatola ci sono vari gommini. Però, per me, perché non cadono dalle orecchie quando le utilizzo. Però, spegniamo la telefonata nel frattempo. Ok. Non cadono mentre le utilizzo. Ritorniamo anche sulla camera principale. Però, se io muovo la bocca o comunque parlo, faccio, rido, haha, eccetera, iniziano piano piano a scivolarmi dalle orecchie. E sta cosa qua, poi, il problema cos'è? Che uno, per rimettere a posto sulle orecchie, cosa fa? Le tocca qua. Ma se noi le tocchiamo anche leggermente spostandoci sul bordo della cuffietta, avremo questo problema che tocchiamo il touch e toccando il touch andremo a spegnere la nostra chiamata o ad avanzare di canzone, dare pausa, dare play. Insomma, andremo a fare qualcosa che in realtà non volevamo fare. Questo non mi è piaciuto molto. Però, qualitativamente e anche come quantità di batteria, preferisco molto di più queste alle mie JBL, che tra l'altro costano anche di più. Trovate il link in descrizione, sia per l'acquisto di queste, sia per l'acquisto delle JBL, di cui magari faremo una recensione settimana prossima. Giusto per avere un'idea delle differenze tra le due cuffie. Non sono le prime cuffie che ho recensito, ne ho recensito un altro paio che sono queste qui, della Polyhig, ma queste non mi erano proprio piaciute. Facevano troppo rumore, si sentiva un casino incredibile mentre passeggiavo, quando ero in macchina, era un disastro. Non sono delle cuffie che mi piacciono. Queste mi piacciono maggiormente. Adesso, anche secondo voi, magari nei commenti qui sotto, scrivetemi cosa ne pensate, anche per, come avete sentito, la telefonata che ho registrato. E datemi dei pareri. Insomma, sono qui, io non faccio altro che testarle, me le mandano, mi fa piacere utilizzarle. Ammetto che queste qui sono quelle che utilizzo qui in casa sempre. Fuori non potrei mai portarmele, perché dovrei portarmi sempre e comunque una scatolina in tasca. Vada per l'inverno che magari siano delle tasche. Ma d'estate? Cioè, d'estate dove me la metto sta scatolina? Devo avere una tasca dedicata per uno scatolotto. No, quindi, ottime per casa, ottime per essere liberi, con le mani libere anche quando si lavora. Fantastiche se devo condividere la telefonata con una persona. Perché posso dare l'auricolare all'altra persona e non devo essere con l'ansia di averlo attaccato come queste qua. Perché queste ho, sì, sono molto lunghe come cavo, perché è un metro di cavo, però non posso spostarmi più di tanto. Con queste invece, essendo entrambe tra l'altro con microfono, ho la possibilità di spostarmi senza nessun tipo di problema. Quindi, pollice in su per queste belle cuffiette. Se siete abituati all'utilizzo di tipologie di cuffie come queste AirPod similari, ne valgono veramente la pena per il prezzo che hanno. Che dire, se vi piacciono, sapete che qui sotto c'è un link, probabilmente ci sarà anche un codice sconto, credo. Devo chiedere all'azienda se ci rilascerà un codice sconto. Qualsiasi acquisto che vogliate andare a fare, qui sotto ci sono tutti i link. Spero vi sia piaciuto anche questo piccolo review delle cuffie Arbilly. E a me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!